Con 19 voti favorevoli e 7 contrari, il sì del Consiglio Comunale per la giostra straordinaria è alla fine arrivato. La massima sise cittadina ha infatti approvato la proposta della terza edizione della rievocazione storica retina, intitolata al Giubileo della Misericordia. Favorevoli alla tanto discussa manifestazione i partiti di maggioranza e il Movimento 5 Stelle, mentre a ribadire il loro no sono stati Partito Democratico e Arezzo in Comune. Il sindaco Alessandro Ghinelli ha sottolineato il forte legame della terza giostra con la straordinarietà del Giubileo indetto da Papa Francesco, con la chiara volontà di riportare il mondo intero ad un valore morale universale attraverso un forte richiamo alla dignità dell'uomo, ha affermato il primo cittadino. Soddisfatto dell'esito della votazione anche l'assessore alla giostra Gianfrancesco Gamurrini, uno dei massimi promotori dell'edizione straordinaria. La giostra unisce ciò che la politica divide, questa è una frase che ogni tanto ripeto perché in effetti così non è un argomento che divide la città o viene discusso in ambito politico. Non cambia idea Francesco Romizzi, consigliere di Arezzo in Comune, che già prima che la proposta fosse messa al voto aveva espresso la sua contrarietà in merito all'edizione in notturna del 27 agosto della sfida al Re delle Indie. È una giostra improvvisata, non c'è alcun progetto turistico, non c'è alcuna condivisione dei quartieri, uno ha detto no chiaramente e gli altri hanno mugugnato. Quindi c'è di fatto alcune perplessità su questo evento e il mio no è motivato da questo. Credo che sia voluta essere organizzata esclusivamente per fare qualcosa. E adesso la palla passa nuovamente all'ente presieduto da Franco Scortecci. Tutto demandato all'istituzione giostra che individuerà i tempi e le procedure da tenere per correre giostra. Rimane in evidenza la polemica dei commercianti di Piazza Grande sin dall'inizio contrario all'edizione straordinaria che recentemente hanno espresso le loro perplessità in un incontro con l'amministrazione comunale. Così il vice sindaco Gamurrini è intervenuto sulla questione. La soluzione verrà trovata nel periodo successivo in quanto andremo a fare un bando per individuare le ditte che effettueranno i lavori. E poi vedremo con le ditte se sarà possibile ridurre i tempi di montaggio e di smontaggio del tribune.